Questa mozione non sia applicabile perché ad oggi quei terreni non possono essere utilizzati ad uso residenziale o ad uso verde. Non possono essere utilizzati, quindi un campus universitario non si può fare. Allora, facciamo un passo indietro perché voglio approfittare per fare un quadro della situazione. C.M.C. è la cooperativa che vince l'appalto. Entro il 5 novembre del 2013 avrebbe dovuto terminare i lavori che invece sono ancora in corso. C.M.C. non solo chiede più soldi, arriva a 110 milioni da una partenza di 58 milioni, sostenendo di dover fare lavori che non erano previsti e chiede anche che venga sposato il termine di consegna. Col primo atto lo sposta a settembre 2014, con tra l'altro dissenso della stazione appaltante. Col secondo atto lo sposta al 26 giugno 2015, cioè ad Expo in corso il 26 giugno 2015. Sono documenti ufficiali. Scadenza che scende al 31 marzo 2015, quindi ovviamente ha ancora il momento in cui Expo non è partito, guadagnando un premio di accelerazione oltretutto. Questo non è un dettaglio da sottovalutare. Allora, prima di fare qualsiasi previsione di progetto ci chiediamo, sono già state avviate le rivalse nei confronti dei precedenti proprietari di quelle aree? Perché? Perché noi abbiamo dei dubbi sulle relative bonifiche. Perché da luglio 2014 ad oggi Arexpo non è stata capace di fare chiarezza su questo tema. L'allora sindaco Moratti aveva garantito più volte che i terreni non dovevano essere bonificati. E quindi perché CMC continua ad avanzare ulteriori riserve e a far salire i costi? Quando tra le motivazioni che si legge, scritte proprio in documenti ufficiali, leggiamo al fine di evitare la sospensione dei lavori, si è reso necessario ordinare l'allontanamento dei maggiori rifiuti rinvenuti durante gli scavi. Chi ha permesso allora che uno degli appalti più contestati ad oggi, che è quello della rimozione delle interferenze, in cui il movimento terra è preponderante, potesse essere assegnato senza che CMC avesse la disponibilità di quelle aree dove oggi sorge l'Expo, al momento dell'indizione della gara, cioè si fa la gara d'appalto, CMC che poi vince la gara d'appalto, non può entrare in quelle aree, non può entrare, è scritto nero su bianco e quindi fa una stima spannometrica. Da lì continuano a salire i costi perché vengono continuamente trovati rifiuti da rimuovere. Questa mancanza di disponibilità delle aree ha comportato, e si legge nella relazione della Corte dei Conti, quindi anche qui documenti ufficiali, che per le correzioni successive è necessario approvvigionare una quantità analoga di materiale di nuova fornitura per i riempimenti e soprattutto per la formazione dei rilevati. Quindi deve arrivare nuovo materiale per fare i rilevati, su cui ci sarà poi l'Expo, e che in corso d'opera sono stati individuati ulteriori rifiuti speciali di varie categorie, quantificando questa variante in 31 milioni di euro dati della Corte dei Conti. Allora, noi da luglio dell'anno scorso ci chiediamo chi deve pagare queste differenze a fronte di decisioni politiche di fare Expo su quei terreni privati? Perché a Re Expo, in Commissione Territorio, ed è tutto verbale, a febbraio del 2015, non ha, e ce lo diceva appunto il Presidente Pilotti, non ha attivato la procedura di rivalsa sia dei 6 milioni dell'accordo quadro, e sia dei milioni eccedenti dell'accordo quadro per le relative bonifiche. Cosa stiamo aspettando? E perché Regione Lombardia, però la giunta precedente bisogna dirlo, quindi nel luglio 2012, approva una delibera che esclude dalle bonifiche una serie di areali del sito Expo che risultano poi comunque inquinati, li esclude dichiarandoli che non avevano bisogno di bonifica, in realtà sono inquinati, come ad esempio il comparto quarto. Ricordo poi un ulteriore dettaglio, che con un documento del Commissario Unico di Expo, nell'agosto del 2013, i terreni vengono declassati da tabella A a tabella B del Codice Ambiente, quindi vengono abbassate le soglie di rigore dei controlli ambientali, in vista della temporaneità di Expo. Con quel provvedimento il dottor Sara ammette per iscritto che il sito, quei terreni, non saranno compatibili con la funzione residenziale e verde. Allora, il nodo da sciogliere è qui, quindi chi, con quali soldi, quando, soprattutto quando, i terreni su cui l'ha stato interessante, ripeto, interessante progetto, quando verranno ritrattati per tornare in tabella A. Diversamente, se non torniamo in tabella A, quei terreni non possono essere utilizzati per fare un campus. A noi sta a cuore, forse ancora più che a voi, ma immagino di no, che quei terreni possano tornare ad uso residenziale verde e che la Statale, con Assolombarda, con Silicon Valley, facciano un ottimo progetto che torna utile a tutti e che anche noi appoggeremo. Ma prima dobbiamo sciogliere dei nodi su cui vi chiediamo di appoggiarci, perché noi ci stiamo sbattendo la testa da luglio dell'anno scorso e non troviamo risposte. Evidentemente qualcosa non torna. Non solo. Vi ricordo che il bando precedente, che fortunatamente è andato deserto, aggiungo, era errato, proprio perché nel master plan non era indicato che quei terreni non potevano essere utilizzati per residenziale verde. Anzi, era indicato l'esatto opposto. C'era anche del co-housing. E quindi, torniamo a, come dire, a quella che è un'incomprensione nostra. Vale a dire, i soldi pubblici su queste aree da investire sono davvero ingenti. E a noi piacerebbe sostenere davvero dei progetti che riqualificano quella zona e che facciano vedere che esiste un dopo-expo che rimarrà in eterno in quelle aree, che non le faranno diventare degradate come a volte succede in altri paesi. Ma perché abbiamo dovuto arrivare ancora oggi in emergenza e non sappiamo ancora dare queste risposte? Quindi, perché nella mozione riprendiamo anche il tema proprio delle ristrettezze delle tempistiche. Questo gioco delle tempistiche strette è un danno per l'Italia. È un danno anche, in questo caso, per il dopo-expo. Perché queste risposte dovevano arrivare già da molto tempo e ci sfugge perché non siano ancora arrivate. E quindi sostenere oggi qualsiasi progetto va bene a un suo senso politico, ma se non può essere fatto, mi sembra una presa in giro, anche nei confronti proprio del magnifico rettore che si sta spendendo per cercare di coordinare il progetto di cui si diceva. Grazie.